questo qua io me lo sento te cazzo ho chiuso io me lo tento me lo voglio tentare me lo tento lo stesso è peggio fare quello che ho fatto io adesso sai cos'è che sei lì a te e ridianti io ho ansia di quello ve lo riprovo piano piano che cosa hai fatto tu? prima Giulia siamo passati da qua ok 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 abbiamo fatto una mezza cagata tipo vai guardare un pochettino no io ho questo sincero perchè so che tanto non lo chiudo col posteriore io mi vedo già su quell'albero prendo il posteriore e lì un pochettino te la senti? te la devi sentire prova no 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 prendimi la linea Gabri guarda no 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 questa è troppo bella eh dai io 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 ti Ciao E' Gabri Bellissimo Bellissima 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 occhio giù tutto ok? sei caduto? ma sono caduto io tutto ok giù? visto provate di prenderla a piazza sei caduto? ma sono caduto io è il mio cespuglio, hai visto? ha il segno Grazie